Io mi sento di dare un consiglio non richiesto a Conte e a Zingaretti. È evidente, la lettera di oggi di Renzi è una lettera abbastanza in cui di sotterra lascia di guerra, cioè dice io vi faccio ballare, io penso che loro non debbano accettare questo gioco e glielo dico io, non facciano come me. In questa situazione è Conte e Zingaretti che hanno, da un certo punto di vista, il coltello della parte... Ce l'hai sopportato troppo da Renzi all'epoca? Hanno il coltello della parte del manico, nel senso che non è possibile che una maggioranza come questa vada avanti in un Vietnam quotidiano. Facciano chiaramente con Renzi un patto, nel momento in quale Renzi non rispetta il patto si va dal voto. Se si va avanti come oggi diventa un Vietnam e non si arriva a mangiare il governo, non arriva a mangiare il panettone.